Sicuramente un bilancio positivo, la Commissione Ambiente si occupa sì di ambiente, ma si occupa anche di sanità e sicurezza alimentare. In campo ambientale abbiamo fatto tanto, nel campo delle politiche di lotta al cambiamento climatico, sul mercato dell'anidride carbonica, ma soprattutto per far sì che i nostri cittadini vivano questo secolo nel nostro continente e a livello mondiale con una limitata innalzamento delle temperature. Ci sono tanti temi ambientali che abbiamo poi seguito, ci sono temi legati al mercato della CO2 che riguarda le emissioni e le industrie, ci sono temi legati all'energia da fonti rinnovabili, ci sono temi che invece abbiamo in lavorazione e che sicuramente ci daranno possibilità a breve di raggiungere gli accordi. Penso ai temi legati ai rifiuti, all'economia circolare, tutti temi ambientali di grande prospettiva, perché non possiamo pensare di vivere consumando quello che consumiamo adesso. Abbiamo la necessità, una forte necessità, di guardare al futuro cercando di riutilizzare tutto ciò che è possibile riutilizzare. Oggi l'economia è lineare, questo significa che utilizziamo materie prime, le trasformiamo, poi diventano rifiuti dopo l'uso e diventano anche degli scarti che non sappiamo come gestire. Dobbiamo invece riutilizzare, riciclare, reimpiegare nel processo produttivo perché l'economia lineare non è il futuro, ma è un passato che non possiamo più permetterci per gli anni a venire. Abbiamo lavorato sulle grandi sfide della sanità e ci stiamo lavorando. Abbiamo affrontato l'emergenza dell'Ebola che è stata un'emergenza importante dove l'Unione Europea è stato il primo soggetto in termini di aiuti concreti e di supporto umanitario. Abbiamo lavorato sulla sicurezza alimentare perché vogliamo che i nostri cittadini europei abbiano un quadro di certezze e non vadano incontro a alcune problematicità. Abbiamo deciso di lasciare agli Stati membri la possibilità di scegliere se coltivare o meno gli organismi geneticamente modificati, ma soprattutto abbiamo vietato che la carne clonata arrivasse nei piatti. Vogliamo certezze, tracciabilità, origine e stiamo combattendo una battaglia all'interno del Parlamento come delegazione italiana al confronto con gli altri paesi perché vogliamo obbligatoria l'origine delle materie prime, cioè vogliamo sapere ciò che arriva nel nostro piatto, da dove viene, come è stato trasformato, ma soprattutto da dove viene la materia prima che è stata utilizzata. Dobbiamo per esempio dare da mangiare a 9 miliardi di persone da qua al 2050. Come vogliamo farlo? Producendo di più ma con meno risorse disponibili. È una sfida della tecnologia, è la sfida del futuro e questa sfida la combatteremo anche nel Parlamento europeo. Dall'altro dobbiamo dare garanzie. In Europa esiste il principio di precauzione, non consentiamo che qualcosa venga immesso in commercio se prima non c'è la certezza che non fa male alla salute. Noi questo principio lo vogliamo declinare, lo vogliamo applicare e vogliamo che i nostri consumatori europei abbiano di fronte a loro, nelle scelte che fanno tutti i giorni, prodotti che sono sali, salubri e che sicuramente non danneggiano la loro salute. Sicuramente un contributo importante è una misura in cui sono il Presidente della Commissione e presiedo i triloghi, cioè gli incontri che facciamo col Consiglio per definire i testi legislativi. Abbiamo fatto grandi risultati per il nostro Paese, penso alla legislazione sui sacchetti di plastica che è sicuramente la più avveniristica sul piano mondiale, oppure alla legislazione sui biocarburanti e sulle energie rinnovabili che sicuramente pone l'Italia in una condizione di vantaggio nel contesto europeo.